La Chiesa è questo popolo di Dio che è peccatore ma docile, che fa grandi cose e anche dà testimonianza di Gesù Cristo fino al martirio. Durante la messa celebrata a Santa Marta, Papa Francesco è tornato a parlare dei cristiani perseguitati nel mondo, uomini e donne per i quali sembrano non esistere i diritti umani. Perseguitati, spesso in carcere, uccisi. Oggi, come ieri, i martiri sono la gloria e la forza della Chiesa. I martiri sono quelli che portano avanti la Chiesa, sono quelli che sostengono la Chiesa, che l'hanno sostenuta e la sostengono oggi. E oggi ce ne sono più dei primi secoli. I media non lo dicono perché non è notizia, ma tanti cristiani nel mondo oggi sono beati perché perseguitati, insultati, carcerati. Ne sono tanti in carcere. Soltanto per portare una croce o per confessare Gesù Cristo. Questa è la gloria della Chiesa e il nostro sostegno. E anche la nostra umiliazione, che abbiamo tutto. Tutto sembra facile per noi. E se ci manca qualcosa ci lamentiamo, ma pensiamo a questi fratelli e sorelli che oggi, il numero più grande dei primi secoli, soffrono il martirio.